Perché lo stiamo continuando a guardare? Ho troppa paura per cambiare canale. Dobbiamo resistere, ragazzi. È questo che fanno i grandi, no? Non è vero, Nicky? Il povero fattore è passato al primo stadio della zombificazione. Mugugni e sonnambulismo. Nel secondo stadio comincerà a scavare i fossi. Ti prego, non scavare i fossi. Ti prego, non scavare i fossi. Ok, sta già scavando. Però almeno non ha piantato nessun cervello. Piantare dei cervelli. No! Questo terreno è così duro. Mentre tutti lamenti, io mi sto costruendo un giaciglio. Credi che copiando il look di Gris diventerai una survivalista? Sei patetica. Ah, devo aver dimenticato le mie maniche. Laggiù! Oh, vuoi vedere i miei di muscoli? Allora preparati a perdere perché... E titoli di coda... ...i più belli che abbia mai visto. Ce l'abbiamo fatta. Siamo sopravvissuti a campo di cervelli. Troppo piccoli. Non siamo troppo piccoli. Già. Non siamo dei bambini che corrono a piangere da mamma e papà. Mamma! Papà! Mamma! Papà! Andiamo in salotto. Sì. Mamma! Papà! Mamma! Papà! Mamma! Mamma! Momma! Momma! Mamma! Grazie a tutti.